non fanno entrare di lì le vacca ma quella boh figlia che la boh io ti pu... non c'è nessuno non posso giocare con nessuno dai che siamo da soli bisogna andare su tutti insieme ma è bellissimo! orcaido? no, non c'è nessun capo niente il portiere non si è mosso bellissimo, pallombella di testa di Felipe guardatelo il portiere non si è mosso con la merda lì non poteva fare nulla su questa cos? come non poteva fare nulla? come dovrei allungare le mani? colpo di testa a pallonetto che schifo guardatelo eh guardatelo eh guardatelo eh miriamo guardate che teniamo il gol la metto dietro da fermo! pallonetto da fermo di testa guardatelo, palloni di meglio lo apprezzi meglio stai apprezzando? da fermo opp! che roba? grazie grazie Felipe grazie 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 grazie